ciao allora oggi voglio andare a creare qualcosa ma è tutto un crescendo perché non ho ancora la minima idea di cosa fare ho tirato solo fuori alcune cosine per halloween volevo fare qualcosa per halloween spero che l'inquadratura sia migliore delle solite perché volevo usare questa faccio vedere questa casetta a zucca grazie per aver messo a fuoco che è deliziosa e avevo preso su wish a 2 euro compresa spedizione quindi un euro più un euro spedizione e questa streghetta un po strabica sempre presa su wish a stesso prezzo però non so bene come usarli e quindi ho detto ma proviamo a fare qualcosa e pensavo di metterli per halloween in una di queste jar che sono quelle che ho finito dire della yankee candle e pensavo di fare qualcosa del genere però cosa furba che dovrei fare sì ci stanno ok allora è tutto un crescendo dunque ho tirato fuori un po delle mie cosine ho attaccato la pistola per acqua da caldo perché questa sicuramente serve e vediamo un po allora pensavo di metterci un po di sfondo e lo sfondo usiamo questo che dite questo sempre preso su wish è tipo muschio vediamo più o meno così ok allora però questa meravigliosa quantità dobbiamo attaccare un pochino con la colla perché sennò col cavolo che ci sta e speriamo che ci sia la colla sì la colla c'è ma se mettersi la ricarica è più bello allora comunque iniziamo a metterlo e lo spargiamo un pochino così non ci interessa che stia fermissimo ma che stia sul fondo allora tanto ci mettiamo la cartuccia perché senza fa un po fatica poi la casetta così la colla a caldo più che altro mi serve perché una volta decisa la casetta devo metterci la streghetta che non starà in piedi neanche a pagarlo ecco esatto ma più o meno ci sta sapete che forse una volta messo un po più muschio russiamo russiamo cosa c'è oggi riusciamo a fare senza colla a caldo proviamo voglio provare certo che si muove un po è con la colla mi piace di più a me ok in modo che stia appena un pochino fermo poi no ce la mettiamo ok e adesso più sarà disposti sarà la streghetta così così che dite oddio è un po è un po sdraiata aspettate che ecco ok allora direi che più o meno ci siamo ok più o meno è ferma tanto poi andiamo a chiudere non ho provato ma spero che si chiuda sì si chiude perfetto però ci volevo aggiungere qualcosa non solo così oddio c'è un segno di colla proprio qui bene riuscirò a rimuoverlo in qualche modo sì ce la faccio ce la faccio ecco fatto per fortuna e adesso ci volevo mettere qualcos'altro quindi vediamo un po vi ho cambiato inquadratura perché secondo me vedete meglio devo solo ricordarmi di non lavorare con la sinistra perché sennò vi copro tutto ma lavoreremo anche su questo ecco magari se la colla non si attacca al muschio ma volevo fare un altra cosa anche perché qui c'è un buchetto libero e io ho questi cosini meravigliosi piccolissimi che volevo provare se ci stanno ad esempio se questi bestiolini eh che dite però magari dovrei provare a fermarli quindi pinzette lavoro certosino ok un pochino di colla ok e adesso lo andiamo a posizionare qui come apro le pinzette adesso ok un altro punto datemi la colla caldo e vi smonterò il mondo qualcosa del genere e lo mettiamo qui più visibile ok ok i figli togliamo subito perché sennò non so quando mai riuscirò a toglierli ok che dite ne mettiamo un altro però davanti alla porta trattate che prima di darci il punto lo provo perché io lo metterei qui però poi copre tutta la porta no 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 è bellissimo è bellissimo punto di colla e ci sta benissimo mi si è girato aiuto ah ah ok ci sta proprio bene sono delle pietre con gli occhietti allora iniziamo a rimuovere un po' di fili poi pulisco le pinzette e questo qui lo sposto un po' in giù è bellissima sembra una cavolata ma invece è bellissima dunque tenendola così guardate che bella adesso andiamo avanti è tutta un'invenzione che sto facendo sul momento ma volevo provare e decorare il tappo che poi andrà qui no andrà chiusa così e se io ci mettessi qualcuno di questi che dite me la sto proprio inventando sul momento e quindi c'è potrebbe essere una qualunque cosa tipo così proviamo ma perché non uso le pinzette che ce le ho uso la colla caldo e non mai l'attac o altre cose perché nel caso che io in futuro voglio staccarle con la colla caldo si staccano mentre con cianacrilato o altre colle non si staccheranno mai così? che dite? è tutto una fantasia in crescendo ok allora se ho finito con la colla caldo vorrei fare un'altra cosa che mi è venuta in mente però devo guardare se ce l'ho ovviamente eccomi qui allora dunque quello che volevo fare era cercare un nastrino nel mio contenitore dei nastrini che tesse bene con i temi di Halloween quindi arancio sto cercando ma non c'è neanche un arancio no questo non è arancio aspettate proviamo a vedere se c'è qualche colore sono fuori camera ma sto cercando un colore non mi sembra il caso che possa andare bene per Halloween allora dico subito che l'arancio non ce l'abbiamo il nero sinceramente a me non piace più di tanto c'è un nastrino nero da mettere intorno e poi magari faccio il fiocchetto laterale nero non mi ispira se ci fosse un altro colore ma che dovremmo fare due giri così in modo che vada dietro avanti ecco dobbiamo tenere davanti colui che guarda pensavate che mettere un nastrino fosse una cosa semplice ecco non è così ok in questo modo quindi adesso andiamo potevate avvisarmi che c'era la colla che stava fermando tutto qui sul lato ora mi scotterò e poi teniamo presente che questo è il davanti andiamo a fare un giro e questo è il secondo e vediamo dove finisce perché se finisce sul lato bene perfetto e quindi lo possiamo fermare sul lato se invece finiva davanti lo tagliavamo ora mi scotto scotta 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 tanto scotta tanto scotta tanto scotta 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 ma l'ho fermato ok ed eccolo qua allora questa è finita e mi sembra carina anche perché comunque sia io mi piacciono le decorazioni però pulendo a casa spolverando entra la polvere io voglio le cose che si puliscano subito e questa mi sembra davvero carina metto sul mobile nel periodo di Halloween e poi dopo ed è finito Halloween la posso anche togliere oppure la posso staccare loro e le cambiare le jar sono anche comode perché o le recupero dalle yankee oppure comunque c'è un marchio ma fateci caso anche nei vari negozi dove trovo la saponeria è un marchio che è di candele fatte uguali stesse dimensioni delle yankee costano molto meno proprio molto meno sui 4 euro a jar e lo sento profumano un sacco e questa è per Halloween lo so non è queste grandi decorazioni ma mi è venuta in mente così di farla avevo delle cose e le ho deciso di realizzarla con voi quindi adesso fatemi sapere se vi piace se è carina poi nel periodo di Halloween comunque si e ci sono sempre di questi prodottini in giro io le avevo trovati su Wish tempo fa perché se fare adesso non arriveranno mai in tempo ma le avevo tempo fa e costavano pochissimo se no in giro davvero anche nei mercatini o ci sono davvero queste cose carinissime ed è con questo è tutto non lo so troppo carini fatemi sapere se vi piace questa piccola piccola idea se avete avuto un pochino di compagnia e come sempre mi raccomando di mettermi un like e iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao